Un 31enne di Andrea lo scorso febbraio avrebbe violato la sorveglianza speciale e in meno di 24 ore sarebbe riuscito a compiere un tentato omicidio e due estorsioni sfuggendo ai controlli della polizia. Per questo gli è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Trani, dove è recluso per altri reati. L'ordinanza è stata emessa dal Tribunale su richiesta della Procura con le accuse di tentato omicidio, estorsione, resistenza pubblico ufficiale e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Secondo quanto ricostruito lo scorso 4 febbraio, il 31enne sarebbe uscito di casa prima dell'orario consentito dalla sorveglianza speciale a cui era sottoposto per raggiungere in sella ad uno scooter un distributore di benzina. Qui avrebbe chiesto 50 euro all'addetto al rifornimento e al suo rifiuto. Le avrebbe portato via il telefonino dicendogli che glielo avrebbe restituito solo se avesse pagato. Il dipendente spaventato gli consegnò 30 euro, il 31enne quindi andato via sfuggendo all'alto dei poliziotti e scansando di un soffio pedoni auto. Qualche ora dopo avrebbe raggiunto una farmacia facendosi consegnare dal titolare 50 euro dopo averlo minacciato di distruggere il negozio, presi i soldi e andato via per recarsi in una sala scommessa del centro cittadino. Qui per caso avrebbe incontrato il titolare del distributore di benzina al cui dipendente aveva estorto i contanti. Tra i due è nata dunque un'accesa discussione terminata con il 31enne che avrebbe colpito al collo e al petto l'uomo con un paio di forbici. Solo l'intervento di una terza persona ha evitato il peggio e il 31enne è stato disarmato ed è fuggito. Le indagini hanno permesso di ricostruire la giornata del 31enne grazie ai testimoni, alle forbici trovate e sequestrate in strada e ai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dei luoghi in cui sono avvenute le aggressioni.